Gli altri giocatori arrivano, bisogna aspettare. Riscaldamento o già partita? Dai, un pallegio. Partita? Il giallo è Locate. E dov'è Lonate? Qui c'è la signorina che io sto, grazie mille, molto gentile. Allora. Se, per caso, è arrivata a un pallegio, in qualsiasi commenti, che è un altro gioco, potrebbe non far vedere anche il peggio, ma non farò vedere anche il peggio, ma non farò vedere anche il peggio, ma non farò vedere anche il peggio. Sì, perché è il peggio. E' l'altro. E' l'altro. E' l'altro. Deci non è scandolo. Scandolo. Ma è scanto. Ma è scanto. Ma è scanto. Ma è scanto. Non hai passato a... Non, 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 è un fotografo. È un passato a... È un passato. Grazie. Grazie. È partita? Trucco. È partita, vero? Contattore. Grazie. 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 Undici partita. Cambio. Cambio campo. Uno a zero. Due. Due a pari. Tre a due. Quattro a due. Quattro a due. Cinque a due. Sei a due. Sette a due. Sette a due. Quattro a due. Sette a due. Quattro a due. Nove a due. Dieci a due. 10 a 3 11 a 3 partita 12 a 3 partita